Dicono che quando Padre Pio pregava per qualcuno, quella preghiera diventava automaticamente molto potente e ad essa venivano attribuiti migliaia di miracoli. Ora sono i fedeli devoti che elevano una preghiera al frate Cappuccino più amato al mondo per chiedere la sorgente intercessione. Ancora oggi recitiamo la breve ma efficace novena per ottenere un miracolo che ci sta a cuore e che risulta essere urgente. Ottavo giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Atto di contrizione Mio Dio, mi pento con tutto il cuore di averti offeso, perché tu sei infinitamente buono. Dammi la tua santa grazia affinché io non ti offenda più. Amen. Preghiera del 21 settembre O San Pio, oggi vengo a te, sapendo che sei veramente un immenso operatore di miracoli. Così vicino a Gesù, vi chiedo di pregare per queste mie intenzioni. Padre Pio, Padre Santo e Protettivo, ti hai dimostrato amore infinito a coloro che hai battezzato come tuoi figli nella santità. Consideraci anche tuoi figli perché possiamo rifugiarci nella tua protezione paterna. Servi da mediatore tra il Signore e noi e con la tua santa guida dacci la forza necessaria per raggiungere il Regno Celeste e incontrarti. Solo che chiediamo a te, Santo Amato, tu che ci hai detto che è la migliore grazia che possiamo ottenere dal Padre e che ci permette di stare con Lui nel Regno dei Cieli. Così ti adempiremo per incontrarci di nuovo insieme e felici e contenti. Padre Pio disse Mantieniti sempre unito alla Santa Chiesa Cattolica, poiché solo lei può salvarti, poiché solo lei possiede Gesù Sacramentato, il vero Principe della Pace. Fuori dalla Chiesa Cattolica non c'è salvezza, essa ti conferisce il battesimo, il perdono dei peccati, il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, garantendoti così la vita eterna e tutti i santi sacramenti per condurre una vita di santità. Preghiera finale La purezza della mente e del corpo è necessaria per essere puri d'anima, non è un compito facile e richiede allenamento. Ci vuole volontà e disciplina e rivolgersi a Dio in preghiera. Padre Pio diceva che ci vuole coraggio per la virtù della purezza, il cuore puro e il cuore aperto e umile. Amen Il mio Gesù disse Sacro cuore di Gesù, in te confido e spero O mio Gesù che hai detto, in verità vi dico, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai Confidando nell'infallibilità delle tue sante parole, chiedo la grazia Sacro cuore di Gesù, in te confido e spero Sacro cuore di Gesù, che non puoi non avere compassione degli sventurati Abbi pietà di noi, miserabili peccatori E concedici le grazie che ti chiediamo Attraverso il cuore immacolato di Maria Tua e nostra tenera madre San Giuseppe, padre adottivo del Sacro cuore di Gesù Pregate per noi Dio ti salvi, regina e madre di misericordia